buongiorno a tutti io sono domenico miriello lavoro all'università della calabria nel dipartimento di biologia ecologia scienze della terra e sono un geologo un geologo che si occupa di petrografia applicata ai materiali antichi oggi grazie all'iniziativa dell'associazione italiana di archeometria faremo una lezione una mini lezione sulle malte e gli intonaci antichi come materiali complessi che sono espressione in qualche modo della tecnologia produttiva del passato la lezione è divisa in una parte 1 questa e una parte 2 che vedrete successivamente consentitemi di dire di ringraziare l'associazione italiana di archeometria che approda con una serie di video come questi su youtube infatti è stato creato appositamente un canale interamente dedicato all'archeometria e le metodologie scientifiche per lo studio dei beni culturali che è a disposizione ovviamente di tutti i tecnici gli studenti ricercatori interessati ad approfondire tematiche inerenti al grande mondo dell'archeometria per maggiori informazioni potete andare sul sito dell'associazione italiana di archeometria o sui suoi social network consentitemi anche di presentare brevemente l'associazione italiana di archeometria AIAR che è nata nel 1993 la principale associazione italiana di carattere scientifico ovviamente senza fini di lucro che raggruppa studiosi professionisti ricercatori attivi nel campo delle applicazioni scientifiche dei beni culturali e da anni ormai da decenni promuove e sviluppa attività di ricerche sia di tipo didattico di tipo professionale di tipo scientifico che sono finalizzate a studiare e a salvaguardare il patrimonio culturale utilizzando ovviamente metodologie scientifiche è uno dei punti di forza dell'associazione italiana di archeometria quello di riunire in qualche modo di mettere a contatto ricercatori delle varie discipline siano esse discipline tipicamente delle scienze matematiche fisiche naturali insieme a quelle più propriamente umanistiche storici dell'arte archeologi ovviamente con lo scopo di affrontare insieme problematiche riguardanti proprio lo studio il restauro e la conservazione dei beni culturali grazie a queste diverse competenze che vengono messe insieme accomunate da un unico comune denominatore che quello dello studio dei beni culturali l'area incoraggia anche proposti approcci innovativi che sono finalizzati a sviluppare tecnologie innovative per esempio tecnologie non invasive o micro invasive a bassa invasività che in qualche modo cercano di datare manufatti di studiarne la loro provenienza di sviluppare anche sistemi per il monitoraggio delle opere d'arte e anche degli ambienti di conservazione allora veniamo adesso alla nostra lezione le malte e gli intonaci antichi così è una malta o un intonaco antico una malta non è altro che un impasto un semplice impasto in teoria tra un legante che può essere calcio gesso argilla nelle malte antiche oppure in quelle moderne un cemento moderno per esempio il cemento portland insieme a della sabbia a dell'acqua questo impasto magicamente porta alla nascita della malta esistono diverse tipologie di malte per esempio le marti di allettamento cioè quelle che uniscono blocchi in una muratura oppure un particolare tipo di malta estremamente complessa è l'intonaco che può avere diversi scopi uno scopo di tipo protettivo oppure uno scopo di tipo anche decorativo quando è stuccato oppure viene decorato con dei pigmenti con la tecnica della fresco semplicemente con altri tipi di tecniche e apparentemente questa ricetta semplice nasconde una complessità incrinseca che però è la chiave per consentirci di fare delle scoperte interessantissime sul mondo antico perché la comunità scientifica studia le malte le studia perché se noi osserviamo teoricamente un manufatto moderno che in teoria dovrebbe resistere 50 70 per no anche 100 anni fatto di cemento portland in realtà ci accorgiamo che dopo qualche tempo dopo qualche decina di anni possono manifestarsi dei fenomeni di degrado profondo e poi rimaniamo stupefatti quando osserviamo manufatti antichi per esempio la torre di pisa che nonostante i loro evidenti problemi di tipo strutturale la torre di pisa notoriamente pende non cadono resistono resistono all'usura del tempo anche migliaia di anni uno dei segreti della torre di pisa risiede proprio nella sua durevolezza risiede proprio nella composizione delle malte inoltre la comunità scientifica studia le malte antiche perché sono la l'impronta migliore per fotografare il know-how tecnologico di una civiltà antica infatti questa impronta digitale viene conservata e noi grazie a determinati studi possiamo leggerla ottenendo informazioni sulla know-how tecnologico del passato e inoltre inaspettatamente da studi per esempio del nostro gruppo si è visto che alcune malte addirittura ci consentono di studiare i rapporti commerciali che esistevano tra popolazioni coeve del mondo antico anche molto distanti tra di loro per esempio a città del messico i pre aztechi quelli della città di teotihuacan importavano la sabbia delle malte addirittura dal golfo del messico da parecchie centinaia di chilometri di distanza e poi studiamo le malte antiche perché gruppi l'idea è quella che gruppi all'interno di uno stesso sito archeologico di una stessa struttura architettonica questo per esempio è un piccolo esempio dell'emiciclo teatro romano di sibari che si trova in calabria se noi riusciamo all'interno di un sito a individuare gruppi di malte composizionalmente simili è molto probabile che stiamo riconoscendo e ricostruendo le fasi costruttive del sito archeologico per fare questo si utilizzano diverse tecniche più avanti vi farò vedere alcuni esempi inoltre si studiano le malte perché le malte nel 90 per cento dei casi quando dobbiamo restaurare una struttura architettonica archeologica antica sono la prima cosa che si deve reintegrare per esempio per consolidare una muratura quindi si studiano le malte per determinarne la ricetta antica e realizzare malte magari migliori di quelli del passato che però siano compatibili con i materiali antichi quindi è fondamentale in qualche modo determinarne con precisione la loro composizione ovviamente la caratteristica principale che influenza notevolmente la durevolezza delle malte risiede principalmente nel suo legante i leganti più antichi che venivano utilizzati anche per fare degli intonaci rudimentali addirittura sono quelli per esempio delle campagne mesopotamiche però per arrivare ai primi leganti preindustriali cioè quelli che richiedono una sorta di cottura di calcinazione quindi la calce e il gesso insomma è qualcosa che è innata tra il settimo e l'ottavo millennio prima della nascita di Cristo quando qualcuno inavvertitamente forse perché stava cuocendo i suoi cibi in un'area per esempio calcarea o probabilmente in un'area ricca di rocce gessose e magari dopo l'arrivo di un temporale l'acqua che in qualche modo ha spento quei calcari o quei materiali gessosi che erano stati utilizzati primariamente per realizzare un focolare quindi per procurarsi per cucinare del cibo ha spento l'acqua inavvertitamente quei materiali che si sono calcinati artificialmente e qualche uomo dall'osservazione e dall'intuizione scientifica ha osservato che il materiale in qualche modo diventava plastico per poi indurire e la sua brillante idea di utilizzarlo magari per legare tra di loro blocchi di costruzione. Io immagino che la nascita dei leganti antichi che ovviamente è legata alla nascita della pirotecnologia si è avvenuta un po' in questo modo ovviamente tracce dell'utilizzo di calce antiche si trovano anche in Israele nella grotta di Aioniam 11.000 anni prima della nascita di Cristo addirittura in alcuni siti archeologici alcuni siti silos in Turchia nel sito archeologico di Kayonu e Nevalakori 7.000-6.000 anni addirittura prima della nascita di Cristo ma come si fa una calce, una malta antica? Innanzitutto bisogna produrre la calce andiamo a calcinare un calcare, il calcare fatto prevalentemente da carbonato di calcio si perde l'anidride carbonica, diventa ossido di calcio, l'ossido di calcio così com'è non può essere utilizzato perché è caustico e quindi in qualche modo va spento attraverso dell'acqua si aggiunge l'acqua nella fase di spegnimento che è una delle fasi più importanti della preparazione della calce l'ossido di calcio, detto anche calceviva, si idrata per diventare calce spenta o grassello di calce ovviamente poi prima di mettere in opera la calce e impastarla, la si impasta con la sabbia, con un po' d'acqua da questo momento in poi se il tutto viene esposto all'aria riassorbe l'anidride carbonica che aveva perso durante la fase di calcinazione ridiventando nuovamente carbonato di calcia e quindi indurendo si crea quella che noi chiamiamo malta o intonaco è una cosa importante volevo dirvi a questo punto nel momento in cui andiamo a preparare la nostra malta all'interno della malta probabilmente nella fase di spegnimento andiamo a ritrovare dei noduli di carbonato di calcio che si pensa siano in qualche modo conservino la composizione che più si avvicina a quella dei calcari di partenza quindi studiando nella loro composizione è possibile ricostruire ritrovare le cave di provenienza dei calcari utilizzati per produrre la calce per lungo tempo noi abbiamo immaginato le calci come al sistema cemento portland in realtà sono due cose totalmente diverse per produrre per esempio in un forno romano una calce antica si aggiungevano temperature comprese tra i 500 e i 1000 gradi centigradi in un forno moderno per la produzione del cemento portland si arriva anche a 1000, 1200, 1400 gradi centigradi quindi sono due sistemi termodinamici totalmente diversi le grandi scoperte in campo archeometrico sulle calci e sulle malte antiche abbiamo cominciato a farle quando abbiamo cominciato a pensare che il mondo della calce è un mondo totalmente a sé molto diverso da quello del cemento portland diciamo che le calci che in qualche modo induriscono e fanno presa in aria si chiamano calci aeree e impastando una calce aerea con della sabbia otteniamo una malta aerea invece le calci che riescono a fare presa indurire sott'acqua si chiamano calci idrauliche impastando una calci idraulica con della sabbia otteniamo una malta idraulica quindi le calci aeree si producono calcinando o calcari o calcari dolomitici o calcari magnesiaci quelli idraulici si producono calcinando invece diciamo dei calcari sporchi di argilla che hanno al loro interno un contenuto elevato di silice, alluminio e ferro che sono degli idrauliti che in qualche modo poi portano alla formazione di una calce idraulica artificialmente noi possiamo idraulicizzare una calcia aerea e come? aggiungendo per esempio materiale pozzolanico naturale quali la pozzolana per esempio la cenere del Vesuvio è un'ottima pozzolana oppure delle diatomiti che sono delle farine fossili o del caolino che viene parzialmente attivato termicamente o delle argilliti possiamo ottenere anche dei materiali artificiali pozzolanici da impastare alle calci aeree per renderli idrauliche utilizzando per esempio dei frammenti di cocciopesto che sono dei frammenti di ceramica o laterizio frantumati o addirittura come si è visto anche in alcuni siti medievali nel nord Italia utilizzando delle scorie metallurgiche l'idraulicità in genere è dovuta alla silice, all'alluminio e al ferro possiamo misurarne in qualche modo l'idraulicità di una malta misurando l'idraulicità del suo elegante utilizzando la formula di Vicat che mette in rapporto appunto gli idrauliti con il calcio più il magnesio e in base ovviamente al valore di questi indici noi possiamo anche in qualche modo definire il grado di idraulicità della nostra malta adesso vi farò vedere un po' come si studiano le malte e qualche caso studio però questo lo vedremo nella parte nella seconda parte che vedrete nel secondo filmato che è stato caricato su questo canale vi ringrazio, ci vediamo fra poco grazie